Facundo Lescano, siamo a Colle di Valdezza al termine dell'allenamento, ne approfittiamo per fare un po' il punto della situazione sia sulla squadra che sul tuo campionato. Partiamo da domenica, questo pareggio con l'Alessandria, come lo giudichi, quali sono le tue impressioni? Penso che il pareggio alla fine sia stato giusto, anche perché abbiamo affrontato una squadra che l'anno scorso ha perso una finale per vincere il campionato, quest'anno penso che abbia fatto anche una buona squadra per provare a vincerlo e quindi però noi ci siamo fatti rispettare in casa come al solito e abbiamo provato a vincere come hanno fatto loro e alla fine penso che sia stato un risultato giusto. Senti, sei entrato nel secondo tempo, eri entrato anche a Pisa, quindi in due match sicuramente non semplici anche a Gavorrano, ecco domenica c'è stato il tuo esordio in casa all'Artemio Franchi, come giudichi questo tuo inizio di campionato? No, sì, sono arrivato a fine del mercato quasi, quindi mi sono ambientato con calma, le prime partite sono state ottime perché comunque abbiamo subito fatto dei punti, come hai detto a te a Pisa comunque era una bella partita perché era lo stadio pieno, un derby, però sai sempre in casa è più bello giocarci e quindi domenica sono stato contento di aver fatto il mio esordio come hai detto tu in casa, comunque cercando sempre di dare contributo alla squadra e aver lavorato per loro e poi andiamo avanti sul lavoro. Senti, come giudichi i tuoi compagni di reparto? Insomma, gli attaccanti si fanno un bel mazzo diciamo in questa squadra perché aiutano molto anche in fase difensiva, ecco come giudichi il reparto degli attaccanti e anche come riesci a dare un apporto a questo reparto? No, sì, sicuramente siamo in tutti i ruoli, secondo me è una squadra competidio, davanti c'è Alessandro che è il nostro capitano, io lo conoscevo già ai tempi di Benevento, insomma un giocatore completo, esperienza e tutto e anche lui nonostante tutto si dà da fare e poi c'è anche Samu Unelda che ha caratteristiche diverse magari rispetto a me, ma è uno che è su tutti i palloni, è molto rapido e sono due buoni attaccanti, secondo me molto forti, io cerco di dare il mio contributo quando entro, insomma e comunque come hai tu te si lavora tanto perché è giusto che gli attaccanti difendano anche e quindi noi ognuno prova a fare, si mette a disposizione quella squadra e questa è la cosa importante, restare sempre comunque uniti. Senti, domenica c'è un'altra trasferta, sicuramente non semplice, contro la Carrarese, che Siena dobbiamo aspettarci e che partita pensi che possa essere? Penso che la Carrarese comunque ha nove punti in classifica, quindi sia una buona squadra soprattutto in casa, per quello che mi hanno detto, insomma bisogna sudare per portare via punti da lì, da quel campo e noi andiamo là come tutte le domeniche a provare di vincere, a provare di fare il nostro gioco, la nostra partita come ci chiede il mister e poi tireremo le somme al novantesimo.